Non vuole entrare in veghe politiche che non appartengono al corpo, ma non nasconde di sentirsi amareggiato. Emanuele Carano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, stoppa le polemiche sorte sulla presunta presenza di 60 unità presso lo scalo di Comiso e assicura non abbiamo alcuna sede presso l'aeroporto e non si è mai verificato che un pompiere vi abbia operato. Non ci sono 60 unità, ne abbiamo avute assegnato una quarantina, ma la situazione attuale è che abbiamo appena 10 uomini a sede, comunque pochi, a fronte delle attività esperite. Intanto l'aeroporto è resto chiuso e sulla vicenda prende posizione l'onorevole Nino Minardo. Per il parlamentare Ibleo è arrivato il momento di scelte alternative per lo scalo di Comiso, scelte che rivolgono l'attenzione ai capitali privati. Minardo propone all'Assemblea dei Soci della Suaco di predisporre e rendere esecutivo un avviso pubblico rivolto non solo al mercato europeo e nazionale, ma anche ai paesi arabi e del Nord Africa, finalizzato alla manifestazione di disponibilità da parte di investitori di quei paesi per partecipare all'azionariato dell'aeroporto, ma soprattutto per dare prospettive credibili al piano finanziario che lo deve governare.